Siro contro l'Inter, ma da neopromossa ha avuto un impatto straordinario con questo campionato. L'arbitro consulta visti i propri collaboratori, calcio d'inizio per la Fiorentina. Immediatamente sui compagni il tocco è di Ravanelli. Segnare all'indietro, prova ora sulle corsie laterali la Juventus, ora è Ravanelli in possesso di palla. Quindi questo lancio in profondità ribattuto ancora dalla Fiorentina. Ravanelli, Ravanelli, da solo va Ravanelli, va alla conclusione, ma sulla linea di porta un difensore della Fiorentina riesce a disimpegnare. Vicinissima al gol la Juventus, fasi iniziali della partita veramente entusiasmanti con ripetuti capovolgine. Mentre la Juve ha sette vittorie, due pareggi e due sconfitte. Quella già citata nel derby con il Torino perso per 3 a 2 e poi la sconfitta per 0 a 2 a Foggia. Inquadrato ancora Ravanelli, autore della percussione. Battuta lunga con il destro, molto precisa a favore di Ravanelli. Ancora pericolosamente. Il ritmo, mentre osserviamo Carrera che batte in profondità. Il tentativo di colpo di testa di Ravanelli sul rimpallo. Ancora Ravanelli che effettua il lancio in profondità. Non riesce. La combinazione volante in attacco per la Fiorentina. Ed ora è Ravanelli che tenta. Molto in leggero controtempo. Poi Coiswey, il contrattacco della Juve. C'è bandierina alzata da parte del guardalino e si dispera Ravanelli. Vedete la sua protesta. Fermato ancora in posizione di Alessandro Orlando. Ravanelli ancora con il sinistro Orlando. Parte il traversone centrale. Arriva Ravanelli, sventola. Non riesce a chiudere bene però. Colpisce troppo di collo pieno. Ha tentato la conclusione con l'esterno. Palla che finisce in fallo laterale. Fabrizio Ravanelli. In profondità. Ancora la Juve insiste con Ravanelli. Viene atteso. Marocchi e Paolo Sosa più all'indietro. E Ravanelli che prova. Il tiro è leggermente alto. Sventola di Ravanelli. Ovviamente offre il destro alla Fiorentina per qualche puntata. La palla ora per Ravanelli. La ricevuta da Torricelli. Si gira Vialli. Attenzione. Va giù. Paolo Sosa. L'arbitro dice che si può proseguire. Solito sapiente maestro di palleggio a centrocampo. E su questa iniziativa c'è il fischio dell'arbitro Stafoggia. Trolla a vista. La situazione. L'arbitro Stafoggia. Partiti per il... ...e ordine alla propria manovra. Buono l'inserimento comunque da parte di Tacchinardi. Ora è Ravanelli. Poi Marocchi. Quindi Del Piero sistemato sul centro-destra. Triangolo Fontana per un momento Cois. Insiste però ancora. La Juve con questo lancio in profondità per Ravanelli. Il suo tiro che sfila a fondo campo con Vialli. Arrivato con un attimo di ritardo su quello che era un tiro. Ma avrebbe potuto anche trasformarsi in assist. Ecco che rivediamo. Paolo Sosa. Ravanelli. Ancora Tacchinardi esterno a cercare l'inserimento di Ravanelli. Ravanelli al momento di entrare in area di rigore. Viene in tecchia però si fa intercettare stavolta il pallone. C'è questa iniziativa da parte della Juventus. Osservate come si lotta con straordinario accanimento su ogni pallone. Fischio dell'arbitro. Ravanelli chiede cosa è successo. Non pensa di avere commesso irregolarità. Vedete che c'è un accenno di protesta. Vediamo probabilmente Tacchinardi. Nuovamente Porrini con il sinistro. La carambola favorisce Orlando che lancia in profondità. Ravanelli parte il traversione. Vialli da due passi. Toldo si ritrova il... Metacampo avversaria. È la Fiorentina che è costretta sulla difensiva. Sul piano della determinazione e della voglia e dell'agonismo parte il cross di Ravanelli. Il colpo di testa di Vialli stavolta non lascia scampo. A Toldo rientra prepotentemente in partita la Juventus. Rivediamo l'azione ora con il cross da sinistra da parte di Ravanelli. E l'imperioso colpo di testa da parte di Gianluca Vialli. La deviazione acrobatica al giocatore della Juve. Juve che attacca ancora. Attenzione! Traversa! Traversa! Insiste ancora la Juventus. Viene in avanti anche Carrera. Ormai è un assalto. Nuovo traversone. Grappolo di uomini. Mischia furibonda a Vialli. Vialli la mette dentro. Ed è il gol del 2-2. Esultanza da parte dei bianconeri. Nel giro di qualche minuto il gladiatorio Vialli ha trovato l'opportunità di riportare la Juve sul 2-2. Esulta ora la parte bianconera delle Alpi. In mezz'ora la Fiorentina ha saputo resistere. Poi nel giro di qualche minuto doppietta di... A Merini che però perde il contrasto. La palla è per Ravanelli. La profondità... Traversone. Da parte di Jarni con palla in fallo laterale. Ancora la Juventus in avanti. Nuovamente fermato in fallo laterale. Sul piano anche delle energie da spendere. E difatti arriva il fischio finale del signor Stafoggia che sancisce la vittoria per 3-2 della Juventus sulla Fiorentina. Una vittoria in piena rimonta. Si abbracciano i giocatori bianconeri che a lungo erano stati sotto per due gol ma dalla mezz'ora poco prima.